Complimenti, complimenti veramente all'ospedale Niguarda! Torniamo ai nastri di partenza con una nuova veste dello smartphone d'oro ancora più digital e interattiva. Stavolta mi diverto ancora di più. La seconda edizione del premio dedicato alla comunicazione e all'informazione pubblica digitale premierà le migliori esperienze su social, chat e intelligenza artificiale. Se fai parte di un'azienda pubblica, di una società partecipata, di una PA o di una Utilities operante sul territorio nazionale, raccontaci i tuoi progetti e candida la tua strategia. C'è tempo fino al 30 settembre.